Proviamo sto The Hunt Allora sarebbe praticando un evento di Roblox che mi fa bloccare il computer Ma a che serve raga? Io non l'ho capita sta roba La pista oro sblocca articoli dorati gratuitamente Cioè praticamente è fatto tutto per acquistare questa roba Costa più Roblox di quelle che è a disposizione, grazie Costa l'ira di Dio! Sì ma voglio capire come funziona, cioè così è una modalità Ma quanti giochi ci sono? Aiuto Dov'è Brookhaven? Ho trovato Brookhaven E cosa significa? Cioè cosa succede? Entro in questo portale E poi, oddio E adesso? Cioè è Brookhaven normale Non ho capito raga, cos'è? No, non mi sentivate in basso perché c'avevo l'audio strano Roblox Egg Hunt Devo prendere le uova? Cioè devo trovare praticamente tutte le uova dentro Brookhaven Guarda, vedi? Inizia ufficialmente la caccia al tesoro delle uova di Brookhaven Boia! Presa una raga, presa una Vabbè ma dai sarà facilissimo Ok quindi in questo video troveremo tutte le uova di Brookhaven Tra l'altro poi ci sono pure i bordi quindi dovrebbe essere relativamente heads Ma una, eccolo l'altro! Eccolo, 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 eccolo Preso anche l'altro Aspetta che ce n'è uno qua Nello scivolo dove rapiscono solitamente i bambini Quelli che giocano a 50 anni sul Roblox per adescarli Ok, qua c'è un altro sotto lo scivolo Bella la Lamborghini verde di là Ok Ma cosa succede una volta che io prendo le uova di Pasqua? Cioè tipo mi danno un premio in denaro? Un premio in gettoni d'oro? Eccolo qua Oh ma sta ragazza mi sta copiando le uova La devi smettere? Oh, là c'è un'altra viola, il mio codore preferito Ma poi com'è vestita sta tizia? Vabbè Anche all'ospedale ce n'è uno Beh certo, anche i pazienti dell'ospedale devono mangiare le uova di Pasqua Che significa? Ti dà una macchina stupenda e i gettoni Ma che figata Ok Boh Vabbè fammi uscire da sto posto che ho già paura di sto gioco Sono fuori tutti gli edifici Ok, là ce n'è uno rosso Qua stanno facendo RP ragazzi Volare, scrivo uno sus Spero non facciano cose losche all'interno della scuola Perché io sto comunque registrando attualmente Anche se la gente non lo sa Siamo a 13 uova Ok, 13 uova, 14 con questa Ok Allora, all'aeroporto non c'è nessuno Ok Allora, qua non ce n'è Vicino al municipio mi dicono i ragazzi Intanto andiamo a prendere quello verde Allora, ne mancano 4 3 Perché lì ce n'è una E le ultime 3 saranno veramente toste ragazzi da cercare Saranno veramente, 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 veramente toste da cercare Dove potremmo andare a cercarli? Effettivamente non lo so Al municipio Ma cos'è il municipio? Io non so dove sia il municipio di Brookhaven Ma per chi mi avete preso raga Per Robby che sto gioco lo conosce a memoria Io già tanto se so dove sono i nascondichi Smettila di seguirmi Ah, eccolo, ce n'è una lì Ce n'è una lì Ok, ne mancano 2 Meno 2, 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 meno 2 Ce n'è un altro, ce n'è un altro Ne manca uno ufficialmente E non so dove sia Ma ho sbloccato il coso di Brookhaven Vediamo cos'è Ma non ha le ruote quindi mi sa che va pure sott'acqua Vediamo Ecco, figurati, tutto rotto Che gioco orribile a volte Roblox Comunque, meno male che la macchina era stupenda Quella che doveva sbloccarmi Cioè, letteralmente Sono due tavole nere unite Con le uova Cioè, letteralmente A sto giro proprio per sta Pasqua Mi sa che i tizi di Brookhaven non la vogliono festeggiare Ci avevano proprio zero voglia di festeggiare la Pasqua I tizi di Brookhaven Ma cos'è sto brobrio? Cos'è sto schifo? È la cosa più brutta del mondo Oh, c'ho un gettone Un gettone solo E perché non mi ha sbloccato? Ah, devo trovarne cinque E mi sblocca queste cose qua Mentre se compro le cose d'oro Me le sblocca d'oro Ma sai cosa? Io però voglio rendere questo video speciale Quindi sciopperò la pista d'oro Io voglio le megachain Ok, abbiamo preso la pista d'oro E adesso che succede? Quindi praticamente ogni qualvolta Che io adesso faccio gettoni Mi sblocca anche queste sopra C'è quella di The Mimic No raga, devo farlo assolutamente The Mimic è il mio gioco preferito in assoluto Devo farlo C'è un evento apposta? Oddio C'è proprio l'evento Pasquale First Edition Come si fa a giocare? No, aspetta Questo è per unirsi a The Hunt però Come faccio a giocare a The Mimic? Come si gioca? Play! Il gioco contiene luci lampeggianti E jump scares Non è vero Fa cagare Ok, ci siamo The Market Posso shoppare qualcosa? Ah, c'ho il badge Che costa mille Non c'ho i soldi per comprarlo Ok, quindi devo praticamente trovare le uova di base E dove le trovo le uova però? Ne devo trovare 15 Ok, cerchiamo del volo raga Vediamo un attimino Eh, ma chi la mangerebbe un uovo così però? Cioè, io non lo mangerei Allora, vediamo un attimino dove possiamo trovare le uova Ma devo entrare dentro le case, eh? No, mi sa di no Quindi mi sa che le becchiamo fuori Allora, so ovviamente che The Mimic non è un gioco per bambini Quindi chiaramente sarà molto più difficile trovare queste uova Perché lo sviluppatore Eccola una! Presa! Ovviamente lo sviluppatore dice Aspetta, essendo che non ci giocano bambini al mio gioco Io devo assolutamente rendere la caccia alle uova difficile Quindi sicuramente ci danneremo l'anima Ovviamente Ok, quindi le uova sono tutte fuori Mi arriva la conferma dalla regia cinese Eh, le uova sono tutte fuori Quindi non bisogna entrare nelle case Tra l'altro vedo che ci sono pure dei limiti nella mappa Quindi comunque la mappa è relativamente ristretta Ma io sento rumori strani, raga Non voglio morire però Non voglio che il con... Ok, mi devo nascondere qua se vedo il coniglio Ma mica è quello? No, ok, qua c'è un altro uovo però Oddio, un uovo dorato? No, un uovo giallo però Ok Madonna, non si vede assolutamente nulla È veramente scuro questo gioco Ma vabbè, è un gioco horror, ci sta Ok, quindi se arriva il coniglio Dobbiamo scappare Ok, allora, per il momento ne abbiamo cinque Sei di quindici Dai, ci stiamo andando bene Sei di quindici nel chillong Piglala Ok, scusate, raga Ogni tanto sono un po' Salve Allora, per il momento nessuna traccia del coniglio comunque Ci sta lasciando relativamente in pace Ce ne mancano cinque Ok Ce ne mancano cinque Ce ne mancano quattro Ah! Ho avuto un attimo paura comunque Non so se si è notato, raga Ma lasciami correre E adesso? No, me ne ha levato un botto Ma dai Ma me ne ha levato un sacco Madonna, mi sono cagato veramente addosso Non me l'aspettavo che arrivasse il coniglio pasquale della kinder Dai, dai che ci siamo Siamo tornati Dai, dai Siamo tredici Quattordici Quindici Prese Ok, ok Comunque da quello che ho capito Non è che effettivamente tu completi Cioè, semplicemente li vai a vendere Tu vendi le uova E con le uova Poi te le devi comprare badge Te le devi comprare Vedi? Cioè, dobbiamo farlo praticamente per dieci volte, raga Perché per arrivare a mille E avere il badge che costa mille Boia! Devo farlo dieci volte Ma non ce l'ho voglia Vabbè, lo farò Siamo a mille e sei Quindi posso finalmente comprare il mio bellissimo badge Oh Preso Ah, finalmente Ci ho messo sei anni Però ovviamente voi avete visto tutto tagliato Perché sono un bravo ragazzo E non vuole farvi annoiare Però voglio fare quello del liceo Bayside adesso Per forza E qua ci abbiamo la caccia Cosa sta succedendo nella stanza segreta? Naviga Ok, devo andare dentro la stanza segreta Dicono che è difficilissimo quello del liceo Bayside addirittura Devo andare qui Fare Oddio Vediamo che succede Caricamento 5 di 14 Ok, Bayside high school Molto tipo vecchio stile Orazio Chi è Orazio? Ciao, svegliati Professore Ah no Cosa è successo? Oddio, raga Ma che figata è È il tuo turno Sali lì Che devo fare? Cabaret? Ma? Dove devo salire? Non di nuovo Hai dormito per tutta la notte Basta con dilli i dalli Qualunque cosa lo ricorderai mentre vai Non preoccuparti Ora sali lassù e non dimenticare il tuo foglio di Devo suonare? Vuoi riprodurre questo spartito? Sì, dai Che devo fare? Tipo gitarino? Oh mio Dio Oh mio Dio No, c'ho paura C'ho paura Aiuto, 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 aiuto Ok Aspetta, aspetta, aspetta Mi devo ricordare i tasti Aspetta Ok Ok No, no, no Non mi diri Ok Non mi diri Aspetta Ok Aiuto, aiuto, aiuto No, è impossibile Mi sto sballando Non le so fare queste cose Non ce li ho i riflessi Un attimo, un attimo Ma cosa dici me? Madonna, no, raga Giuro, giuro, non riesco Sto premendo i tasti a caso No, raga, è impossibile È impossibile No, è impossibile Giuro, raga È veramente difficilissimo No, non ce la faccio Non ce la faccio Sono stupido No, è impossibile, raga Oh Sì, dai, zio Ma cos'è? Ok, sei combo fatto addirittura Buono, buono, buono Dai, questi qua single Li riesco a fare Questi single Li riesco a fare Non ci riesco No No, ragazzi Ma, no, raga Ma perché sono così ritardato? Qual è il problema? Perché non riesco? Sono minorato mentalmente Qual è il problema? Qual è il problema, raga? Perché non riesco? Ok Ma quanto avrò fatto, raga, due punti? No, è impossibile, zio Sì, dai Cosa ho fatto? 16.000 ho fatto Ma pochissimo sarà, vero? Risultato Combinazione Cosa devo? Grado F Cioè, scusami Cosa devo fare praticamente Per ottenere il badge? Eri solo nervoso Ho sbagliato tutto, zio Deve avere B per il badge? Ma è impossibile Come faccio ad avere B? E quindi basta Finito così Ce la posso fare Sì, ma è impossibile Sì, dai Si è chiuso Ok DF e JK Sono due tasti Qual è il problema? Avrò preso Z Avrò preso Ti prego Dammi almeno L'ho preso! Ma come? Mi ha dato D Però ho preso Mi ha dato il badge Mi ha dato il badge lo stesso Mi hanno dato Godo Godo di brutto Godo di brutto Quell'esibizione è stata incredibile Grazie bro Grazie Una domanda Come faccio a tornare? Cos'è questo posto? Sei ancora bloccato in quel sogno? Pensavo che avessimo già parlato Sono morto E vai Ho preso quello del liceo Bayside Godo Mi state dicendo Tutti andate a prendere quello di Barry Avenue? Ok Ci siamo Per iniziare la ricerca Parla con l'NPC sulla spiaggia Ok Madonna Ma quanto sono enormi su questo gioco Ma perché sono così lento? E qual è l'NPC sulla spiaggia? Parla Hello there Healthy meal Ok Devo cosa? Devo trovare degli ingredienti E la bowl Devo trovare Ok Bene Quindi praticamente per la caccia qua Devo andare allo smoothie shop Ma perché sono così lento nel gioco? Vabbè allo smoothie shop E qual è lo smoothie shop? Però io non ne ho idea Vabbè fammi prendere al volo una macchina Ma le macchine costano Robux su questo gioco Veramente? Ok Vabbè Non volevo fare questa cosa ovviamente Allora Devo andare allo smoothie shop Ma io non so dove è lo smoothie shop però Questo è un problema Ah ok Me lo dà Me lo segno nella mappa Sono un po' scemino Eccolo qua Juice smoothies Vai Ok Prendiamo la bowl Perfetto Poi Un tub Ok Questo devo prendere Akai tub Ok Frullatore lavoro Vai lavoro Lavoro È il nostro lavoro Basta Devo andare a prendere un trolley Ok Mamma guarda quanto sono veloce con la mia lambo Z Ah devo andare al grocery shop Praticamente al centro commerciale tipo Ah devo prendere un carrello della spesa Boyaz Ok E poi Salve Ah devo prendere frutta e verdura Vabbè Incredibile Sì frutta e verdura Spuntano Ma cos'è una fragola Sì dai una fragola Ok Frutta e verdura Ok devo prendere anche le banane No non mi unisco alla tua famiglia Ok Perfetto Devo pagare Scusami Ma in che senso devo pagare Scusa Ok grazie Arrivederci Apri Cioè c'è pure la roba dell'uscita Zio pera bro Ah ok devo spawnare una casa o un appartamento Eh appartamento Sono molto più Un ragazzo appartamentale io Ok Però dobbiamo andare proprio sul piano proprio più alto del mondo Nell'attico Ok ci prendiamo questo Sì voglio questo appartamento Non voglio dare soldi a questo gioco Andiamo giù Dai andiamo al piano 11 Questo non si paga spero no Buonasera Posso aprire È casa mia Sì Mamma mia Che vista Ma bellissima questa cosa Ok depositiamo tutto nel frigo Fai la ciotola Akai Ok devo andare immagino qua Eh oh bella sta cosa Raga ma che figata assurda è oh Ciotola di Akai Cucinare Posiziona il vassoio sul bancone Quale a questo ok Seleziona gli ingredienti da preparare Eh place the strawberries on the chopping board Ok qua Guarda come Mamma guarda Zio come sta tagliando Assurdo Seleziona un altro ingrediente da preparare Banana Ok immagino sempre qua no Sempre a cioppare Perfetto Tagliare le banane Tagliamo le bananite qua Molto rilassante effettivamente questo videogame Eh Perfetto E poi Prepara il tuo ciotola di Akai Oddio Completato E me l'hanno dato ragazzi Mangiati un po' sta ciotola No niente non se la mangio Vabbè Guarda come se la mangio Proprio che se la gusta di brutto il mio cuginetto Adesso andiamo a fare quello di Arsenal Raga Che è uno dei miei giochi preferiti E Arsenal Io mi diverto a giocarci Quindi Andiamo a fare la caccia qua Aspetta Che devo fare Però non so come funziona la caccia qua Come funziona la caccia Un attimo Come si fa Non me l'hanno detto Ma cosa sta succedendo Ok Eh Ehm Mica l'ho capito sai Legacy competitive addirittura La competitive Eh vabbè Ma mi hanno devastato Ma non ho capito come funziona Però cosa devo fare qui per Cioè Devo semplicemente completare una partita Devo fare tot kill Para Eh Ho capito Ovviamente è troppo forte Però Sì vabbè Oh Cioè ma come faccio Mori madonna Che casbo Aiaiaiaia Vabbè ragazzi ma io questo gioco lo odio Cioè non ho capito che devo fare per Belle però sti armi che hanno messo Raga ma lo sto Ah devo fare 12 kill Scherzavo ok Non devi fare 12 kill Oddio Cos'è quest'arma raga Bellissima Mi hanno distrutto Fa male Sì di brutto Vorrei solo capire come funziona questa robetta Oddio cosa sono queste cose Che sono Che sono quelli Eh sì In 40 mi ammazzano Morto Quel tizio Manco il tempo di poterlo killare Mamma Pure i jumpscop ho fatto Quella è una bestia Sei xiao Stai calmo un attimo Ok Mamma mia xiao Stai calmo Che potenza questo ragazzo Ok Oh challenge completed Però non c'entra niente mi sa Vabbè guarda quello lì Boh Quanto siamo? Siamo ancora quinti Raga ma è impossibile Vabbè devo camminare col coltello Comunque ho capito Ah ok ha vinto un tizio Ah voglio capire effettivamente come funziona però Vabbè sono un idiota ragazzi C'era proprio la modalità Cioè ce l'avevo davanti enorme Ok Ti spiego la cosa devi fare Bello però sta cosa che hanno fatto di Roblox Mi piace Devo ammazzare mi sa delle cose Ok Che figata raga Non ci credo Devo fare tipo una roba mega stealth No vabbè Sì questa è la cosa più bella del mondo raga No vabbè ma che cosa stai dicendo C'ho 35.960 colpi Ah ecco Se mi vedono devo Capito 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 Vabbè però non volevo farmi vedere Allora dobbiamo stare attenti Perché abbiamo una sola vita E non ci possiamo curare mi sa Quindi se ci ammazzano It's the end Sarai headshot da qua Penso di sì Sì Ok Oddio C'è un tipo là No Mi hanno beccato Ho solo lui Aller stato i nemici Mi sa questo è un problema Ok Oh c'è un'arma E vai basta pistola Effettivamente Ma anche questa silenziata MP9 Bellissimo Comunque la vita mi si ricarica col tempo Da quello che ho capito Quindi L'unica cosa è che Ci sono veramente poche munizioni Ma devo ricaricarle No Ok Molte poche Ovviamente la pistola è quella che ne ha di più Vabbè praticamente su arsenal C'è una missione da completare Di base Ok Ok Ma fa pochissimo danno Quest'arma comunque Molto figo Sì sì Molto figo Ok Oh Siamo dentro Siamo dentro Ma c'è un bordello qua Ok Comunque è meglio Mi sa utilizzare la pistolina È molto più comoda Molto più veloce Ok Devo trovare una chiave arancione Per procedere Ok Madonna Mi hanno laserato Aiuto Ok Bello Mi piace però Mi sta gasando Mi piace molto Eccola la chiave E immagino di dover andare Verso questa porta Giusto Ok Oh mio dio Devo mettere un virus Praticamente all'interno del server Che sarebbe qua Devo hackerare praticamente Brookhaven No il gioco Devo hackerare arsenal Devo premere dei pallini Bello Comunque è molto interattivo Mi piace questa cosa qua Ok Quindi server hackerato Ora abbiamo una k47 Oddio Sanno Oh madonna Ok L'abbiamo distrutti Però molto Molto elzo è stato Ok No 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 Ci abbiamo pochissima vita Sto per morire Ok C'è un elicottero Come run Madonna Sì Madonna Madonna Ok Dobbiamo uscire E salire Sul tetto Ok Sembra un film d'azione Veramente Incredibile Finito tutte le munizioni Di tutto Bellissima Raga Quella di arsenal Secondo me La più figa Pure più bella Di De Mimic Onestamente Vi dico la verità Cos'è qua Lo scar Bellissimo Madonna Che figata Raga Aia Mi hanno fatto un po' Male Ok Devo andare in quella porta Arangione Presumo Ma non ce la farò mai Assaltare da qua Oh sì Sì Devo buttarmi Oh mio dio Oh mio dio Vabbè Ma bellissima Raga Sta cosa Cioè Hanno fatto tutto Perfettamente Proprio Oh Chi è quello C'ho undici di vita Raga Sto per crepare Sarà la fine di tutto Ok No No Mi è arrivato il cibo adesso Non può finire così No Ti prego Dio Ok Allora Fortunatamente Non mi hanno ucciso Ma quando finisci le quest Su brawl Che fai Eh Niente Giò Giochi e basta E farmi trofei Semplicemente questo Giochi e farmi trofei Questo Ah Non l'avevo vista Questa cosa Por Ok Ciao Giochi Comunque Com'è No Allora Fammi ricaricare Un attimo La vita Oh Finalmente Madonna Oh Sei ore Sto pezzo È impossibile Raga Oh Un bazooka Che ci devo fare Col bazooka Devo far saltare Nell'elicottero Non mi dire Dove devo andare Devo uscire Da qua mi sa No Dove devo andare Raga aiuto Devo tornare indietro Ok Quindi devo risalire Ok Che immagino di dove andare Di qua E ora E ora Ah ok Aspetta Qua Devo sparare alla porta Ma quale Questa Questa qua Questa porta Ah Ah con Con lanciamissili Ok Ah Che figata Porca miseria Vabbè muori così però Non è Deve Cittare così Ah è un lanciagranate Non un lanciamissili Vabbè Ammazziamo lui Così Da dietro la porta Fatto male Esplodi va Ok Bellissimo raga Bello Bello Signore esperto di armi Oddio Eh ma quanto ci mette Ad esplodere Sto cosa schifoso Sei anni Raga Aiuto Godo Godo Sta esplodendo Vabbè Ma ha un minimo Di effetto E' scomparso Così dal nulla E quindi Che è successo Finito così Adesso ci prendiamo Il badge di arsenal Sto registrando Da un'ora Ragazzi Un'ora Un'ora Mo ti hanno una skin Di League of Legend Ok bello E quindi è finito così Mi hanno dato la skin Basta finito 107 kill 4 morti Vabbè perché sono stupido 4 morti Potevi tranquillamente Farla senza morire Visto che è la cosa Più strana Più facile del mondo Ma vabbè Io sono io Quindi va bene Però non mi è spuntato Che mi hanno dato il badge Oh si Me l'hanno dato Scusami Aspetta un attimo Me l'hanno dato il badge Me l'hanno dato Ragazzi Che dire Abbiamo preso anche questo Non so se continuerò A fare queste cose dei badge Penso di no Perché cioè Veramente ho registrato 6 anni Però è stato divertente Ciao Alla prossima Alla prossima